Siamo giocati la vittoria e anche l'asile, però è anche vero che il nostro quintetto è 3-4 quindi nuovo, abbiamo poco basket vissuto insieme per i tre campionati, ci hanno portato diversi intervisti e soprattutto, lo devo sottolineare perché questo è un vantaggio che sta sereglie dagli nostri confronti, noi abbiamo giocato martedì, giovedì e oggi, tre partite insi giorni con tre viaggi abbastanza complicati, credo che poi a fine un pochino questo possa aver sbilanciato gli equilibri da parte della storia di Pasquini. Detto questo, complimenti a Chiamento, noi siamo sulla donna strada e continuiamo a lavorare per preparare il prossimo. Buonasera a tutti.